Piccoli fiammiferenti In un costo lontano da qui, in una casa famiglia gestita dalla dolce gentile scrittura popoli vivevano dentro i farelli che erano stati cresciti come fratelli e sorelle e dovevano imparare a leggere, a scrivere e a far di più ma soprattutto ad impecarsi per realizzare un giorno i propri, solo per altri passaggi Ma la zuppa di funghi non la finisci? No, è la quarta volta che mangiamo zuppa di funghi questa settimana e siamo a Marchesi Buona è buona però Però? Che c'è che non va? Funghi trifolati, funghi fritti, funghi in padella Pappardella e funghi Su, mangiate invece di lamentarvi Pensate a chi non ha niente da mangiare Sì, però il terapia di su a funghi è soltare un po' poco Della, non lo sapete che la settora popoli cucina tutto con la sua famiglia e soprattutto basta un'ora e le riposte in cerca di tutte queste famaglie E se qualcuno è questo che è l'esercizio di funghi? E se qualcuno è questo che è l'esercizio di funghi? E se qualcuno è questo che è l'esercizio di funghi? E se qualcuno è un'esercizio di funghi? E sei sicura? Sperattoli, no! Oh, bene, io so come mi lascio andrò come il coracetto e a preparare il nostro conto di matematica. No, ma c'è una piccola! E poi, che mi serve? Tant'è la granità della pittrice? Figura di amici? No, no, no! No, no! Sì, ma per tuttare l'anno di parola, non andiamo a cuore! Vabbè! Sì, no! Tant'è! E comunque, anch'io facerò le stelle di teatro! Nessere o non essere! Poi, se non potete, non me e non so, non vedi che l'anno di una stasera? Tu non hai mai conto su questo diretto, quindi non hai mai conto su questo diretto! Quindi, ancora, hai fatto sfidere! E perché non le nuove iniziative, e poi, se l'anno di mancanza ci potrà! Ah, perché noi ci prenderanno, come ha detto tu guarda cantando? Un, due, tre, quattro, cinque, due... Grazie. Grazie.